ragazzi scusate per il ritardo ok comunque voglio dire una cosa è fatta anche perché fritturam alla Juventus ok perché inoltre sta andando bene quindi Giuntoli è uno chef di piatti benvenuto Giuntoli benvenuto a Torino mi dispiace anche per l'interista che per i rapporti a salani scappano tutti perché quest'anno vi manguccia un campionato comunque tocca con l'interista buona via che fritturammo e invece te l'abbiamo soffiato noi e mi dispiace hai riso per due anni ma tocca a noi quindi giustizia è fatto mi raccomando eh occhio al mercato con Kimio che perdiamo pure in Danilo c'è quell'altro in Monster City e poi c'è quelli top miners che si concluderanno a fare più di Tringorio perché ormai è ufficiale l'arrivo di Michele e di Tringorio alla Juventus quindi vado solo questo e sempre fino alla fine è una buona giornata a tutti ma non sono giuntoli ma non sono giuntoli